buongiorno a Thomas Coppola genovese a Londra buongiorno buongiorno Tiziana buongiorno a tutti buon anno intanto un anno anche a te e a tutti i telespettatori allora ci racconti un po la tua storia cioè come sei arrivato a Londra che cosa fai come mai hai deciso di trasferirti ok certo allora partirei col dire che in realtà non è stata propriamente una mia decisione ci sono un po capitato io ho studiato qui a Genova la triennale di economia aziendale dopodiché mi sono trasferito a Torino per specializzarmi in economia e politiche dell'ambiente sfortunatamente però mi sono diciamo così laureato nel momento sbagliato nel senso che ho terminato gli studi a marzo 2020 che come tutti quanti ricordiamo è stato l'inizio della pandemia quindi non il momento giusto per cercare lavoro ecco quindi ho deciso in un certo senso di temporeggiare prendere ancora tempo per questa ricerca specializzandomi in un master in economia ambientale e dell'energia e al termine di questo master l'azienda che mi ha pagato questa borsa di studio mi ha fatto questa offerta di andare a londra all'inizio ero un po spaventato non posso negarlo però diciamo che già anche all'università l'aspetto internazionale mi è sempre piaciuto perché sia in triennale che magistrale ho avuto l'esperienza di studiare all'estero perché ho fatto un erasmus a parigi in triennale successivamente ho scritto la tesi in portogallo in magistrale quindi ho detto perché no dai quasi quasi mi lancio anche nel lavoro da provare all'estero e quindi sono capitato a londra per caso un anno fa circa tra l'altro economia ambientale ed energia un tema di strettissima attualità assolutamente assolutamente sì invito tutti quanti ad approfondire questi temi perché sono le sfide più grandi che abbiamo da affrontare nei prossimi anni assolutamente soprattutto la mia generazione mi sento di dire sembrano però molto complessi no spesso le persone non si avvicinano perché sembrano insomma di difficile comprensione è effettivamente così Thomas ma per quanto riguarda il mondo dell'energia si è complesso nel senso che inevitabilmente con l'energia si va anche a toccare la geopolitica quindi sono argomenti veramente macro molto grossi che spesso e volentieri la gente tende un po' a banalizzare quindi mi sento di dire che se non si se non si conoscono bene questi argomenti forse è meglio stare ad ascoltare che non esprimere giudizi ecco però sì è un tema assolutamente complesso ma che dovrebbe essere approfondito per quanto mi riguarda già a partire dalle scuole visto che comunque tocca inevitabilmente la vita di tutti noi e poi chiaramente quello dell'ambiente è fondamentale e deve essere come dire deve conciliarsi con le nostre esigenze energetiche ecco quindi sì diciamo che è un momento caldo per tutti quanti sotto questi due aspetti senti dal punto di vista della vita quotidiana tra l'altro tu sei a londra dopo la brexit in un momento dove anche gli spostamenti non sono facili questa vita quotidiana in questa città che poi un mondo è un mondo esatto quello che mi piace sempre dire di londra è che è tutto il mondo in una città nel senso che ogni giorno orbitano circa 9 milioni di persone a londra tra abitanti turisti e persone che sono lì per lavoro e penso che sia la città più internazionale d'europa sicuramente ma probabilmente anche del mondo ecco quindi ci sono numerosissime comunità di tutte le di tutti i paesi del mondo quella italiana è una delle più delle più grandi ci sono circa mezzo milioni di italiani che vivono a londra quindi diciamo che alla fine è quasi impossibile sentirsi straniero in una città del genere perché sono un po tutti stranieri no e sì io sono arrivato dopo brexit perché sono arrivato alla fine del 2021 e quindi sono uno di quelli che è dovuto arrivare con il visto ho dovuto ottenere il visto ci ho voluto circa due tre settimane circa per ottenerlo perché comunque alla fine avendo una laurea è stato un po più veloce il processo soprattutto perché avevo già una società che mi avrebbe assunto una volta arrivato però sì la burocrazia per chi non è inglese o per chi non era in inghilterra da prima della brexit si è un po intensificata inevitabilmente senti thomas c'è qualcosa che ti manca di più di genova anche se insomma sappiamo che londra è vicina però sì allora londra effettivamente è proprio due ore da genova quando ci sono gli aerei posso tornare a casa velocemente effettivamente però sì come dire probabilmente il cibo ligure della qualità che abbiamo noi che conosciamo noi qui non si trova però devo ammettere per chi come me che piace provare sperimentare le varie cucine del mondo qui si trova veramente qualsiasi tipo di cucina possibile immaginabile quindi se proprio devo dire una cosa che non ho ancora trovato a londra e che mi manca e che tutte le volte che scendo a genova è proprio una tappa fissa è la focaccia di recco per quanto mi riguarda quella invito a chiunque la sappia fare di trasferirsi a londra e aprire un chioschetto che la faccia perché secondo me sbancherebbe il lunario beh insomma magari c'è qualcuno all'ascolto che pensa di trasferirsi per quello insomma c'è di tutto a londra lo aiuterei in prima persona assolutamente allora Thomas ti ringrazio come sempre ti faccio salutare nella lingua del paese che ti ospita certamente I send you my warm greetings to all of you and I wish you a peaceful and wonderful 2023 grazie grazie mille Thomas buona giornata presto buona giornata grazie ciao ciao ciao